hola hola iniziamo su Trottiglia siamo un giorno di martedio 23 di otoio del secondo anno che faremo oggi abbiamo il corso, la PAM non ha dato una pila, la PAM non ha dato una pila, la PAM non ha dato una pila, non ha dato una pila qui? me sirven la espina dove sta mi caballito mi chianto ah oggi cosechiamo quindi tutto oggi, maggi non ho avuto per nulla quindi oggi già staria plantando spero che sia uguale si, tutto è bene la semolacha quindi allora sono cacciato qui sta cosechiamo tutto e poi e poi vorrei andare a comprare le semillas di colchina lavori di colchina ok, non abbiamo una frutta e si vanno a salire quindi andrò cosechando tutto mettere tutto cosechano allì cosechano allì ora le pongo a cerchare tutto che più necessitaria? spero che ora mi alcance tutto il cavallito è notabile ci sono ma necessitaria? 720 semillas di colchina ma necessitaria? 720 360 necessitaria? 180 180 semillas di colchina ma necessità E' un po' di più per la vendita, la ma santo presa e qui anche la estatua della incertidumbre per cambiare la professione perché ora si intenzialmente ho vedo dove sta vediamo un rato questo tendria che cambiare la agricoltura questo lo seguo in labrador però qui devo cambiare a artesano che credo che è del labrador artesano se non mi equivoco antes di vendere, credo che stai vendendo a finali di invierno ok, aumenta un 40% tutte le cose se vendano tutti i dorriti che vediamo stai vendendo ho bisogno di 1.800 semillas 1.800 semillas costa 30 per semilla 1.800 semillas 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 oi chai 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 oi chai ecco Sì, 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 sì. qui lo saco di un bel azure che si 1.80 che sono qui e questo che mirore a prendere la mattina io credo che per la mattina ci saranno qui che che questo è del guardare tali come vei qui entra tutto questo un prodotto quindi necessitaria solo 1.000 semillas vamos a vedere quanto costa questa cosa è quello di 30 non miro a fare la misione che abbiamo a 50 a 50 minuti questo non c'è nulla ma, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, ma questo costa un po' più, non c'è nulla, la mini, ora ci viviamo, e a vedere che misi con un po' più, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, ma questo è un po' più prima cosa mi ha agasato la cosecha del libarbo e poi che mi ha agasato credo che era un montone coseche se mi ha pasado il tempo potrei intenta questo stava 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 e credo che sarei per il 90 ma o meno e questo non volvo a regalare non vi diretti poteri stava 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 e stava in stava sono è stava 360 360 360 non ci entra non ci ha guardato non ci ha guardato adesso, non ci ha guardato non ci ha guardato ora mi faccio sembrare tutto qui sto cosechando ma o meno 4 giorni il 27 il 27 il sabato anche il penultimo dia prima di entrare il vierno non faccio non faccio non fai vedere ne avopo un po' di nuovo un po' di 23 minuti e poi prendo un po' di tempo un po' di però lo vediamo, lo vediamo, lo vediamo e poi ora mettiamo tutti i miei 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 i i la 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 l'ho si no si e va Sì. Sì, sembra, sembra. Solso. Donde me ha faltato? Acà. Listo. un 70% mi va a faltare una cosa non mi viene a pego comprar questo e questo è tutto ho avuto i animali è grande un pallito azul la prima me ha salito stiamo bene, spero che sia azul listo non acabo temprano non si lo miro a fare tutto il giorno questo è come un tum per essere lo voy a comprar non ho tre vacas necessito 2 ovejas e sarei costruendo un restauro per gli uomini maio 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 no maio maio il qui è Allora, aca, dejo di chiesa Prodito anche Incluso me falta enastellas También llevaré la madera, entonces Necesito madera No, por ahora no necesito madera noble No, ahora vuelvo Voy a saltar por madera noble Iré a cambiar mis talentos de una vez Creo que si, ya no voy a recortar nada Creo que voy a pasar por ahí Para poder tardar y tener más madera Aunque los árboles normales me regalen madera noble Últimas de colecciones nivel iridio Mañana ya me van a sentir normales Y ya no voy a pasar quindi quindi E questo si fa con questo, cambiando questo, no, cambiando questo di conector. E ora facciamo l'ultimo. e il buco e faccio il operatore. E questo vi ho avendo. Questo vuoltre, questo anche, questo anche. E qui abbiamo bisogno di portare. questo è il DPC questo è il altro è uguale, è uguale, è uguale è uguale, è uguale questo è uguale qui mi hanno fatto da l'alba e questo è tutto è uguale al capo ora lo so ora lo so lo so lo so lo so lo so Sì. qui devo essere questo, qui devo essere uguale, tutti questi sono che vende, questo è uguale devo convertirli in uova invevescita, questo si queda allì, lo deixare allì, no, no, questo lo devo llevarlo ahorita, per creare più, ma bene necessito più uoviti, che stanno cubriendo l'espasio, sobraremmo, il resto, i sostanziali, i sono un po' di piantare, ma necessito lecce, dove sta la lecce? a dove si accadeva? è al lato, questo, 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 sui qui, so, Ancora che andiamo a coprire l'espaccio che va bene. E ora voglio cambiare i talenti un rato. Ho bisogno di ricorezione. poi mi prende i altresi poi cambiare le strumenti le strumenti le strumenti ah che stai andiamo si credo che si coliccio . Vabbè è dormito, vediamo che sta vendendo. E' quello che posso regalarle. Non lo tengo. E' un gioco. e poi lo demás e poi lo voy a dormire credo che non trate in salire no 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 leches che stanno unito dos dos esos eso allí esto aquí esto aquí así vamos 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 a esperar más voy a esperar hasta las 1 a ver si se logra hacer voy a tratar de bajar creo que han sido 3 horas no creo que llegue a salir ahí ha salido son las mayoneses vamos a ver listo vamos listo ahora me voy a dormir y mañana estoy poniendo todo igual que hoy va a llover todo el día no habrá mala suerte ya tengo boda y si es compañeras de George 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 le gusta el pueso le llevaría un pueso entonces y ahora vamos a cambiar nuestros talentos si esto tengo que ser en guardabosques 25% más de madera y esto y esto posibilidad de que los árboles dejen caer madera no esto no sirve la verdad es que te plantan por todo lado y estoy sacando con puras resinas gracias por ver el vídeo no olvides seguirme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame con un like comparte el vídeo y conmigo será hasta el siguiente vídeo y 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